Durerà circa 4 mesi e parte da oggi la sostituzione di oltre 8.000 vecchi contatori da parte di Caltacqua in tutta la città di Caltanissetta. L'intervento è interamente a spese del gestore, quindi gli utenti non dovranno versare nessuna somma. E rientra nel piano che Caltacqua Acque di Caltanissetta ha per la gestione di un servizio idrico integrato sempre più innovativo. Il progetto di ampio respiro comprenderà man mano anche tutto il territorio provinciale.